E' un momento simbolo perché poi questa ricordiamola è una piazza deracchettizzata e quindi è importante che la presenza istituzionale sia sempre garantita. Come municipalità abbiamo ottenuto un'importante pedonalizzazione, oggi è un mercato che sta rinascendo e oggi anche grazie alla sensibilità e alla immediata risposta dell'amministrazione comunale e del vice sindaco e dell'idea che la vecchia Yara Kanda, che era malata, è stata immediatamente sostituita da queste nuove splendide magnolie. Queste sono le due magnolie piantate oggi in piazza Pignasecca. Sono state donate dall'Associazione Pizzaioli Napoletani, l'ente promotore del Napoli Pizza Village, ed il significato è anzitutto simbolico, quello della restituzione all'ambiente della legna utilizzata per accendere i forni. I tecnici del Comune di Napoli hanno provveduto alle operazioni preliminari dalla piantumazione dei due alberi. Oltre a quello che deve fare l'istituzione per la tutela dei parchi e dei giardini, queste manifestazioni in cui c'è un dono e poi c'è il cittadino che le associazioni che curano e adottano e le curano, è la migliore risposta. Questo è un nuovo simbolo, un po' il pezzo della storia, dell'attività e del cuore pulsante della città. Sono segnali importanti che vanno nella direzione di avere sempre di più la partecipazione al miglioramento della qualità della vita nella città di Napoli.